Buonasera, benvenuti a questo corso di formazione sull'interpretazione della tecnologia e dei report S-Drive. Grazie intanto per tutto quello che fate. Ciao Nicola, ciao Antonio, ciao a tutti. Faccio una piccola introduzione di 5-10 minuti perché molti di voi sono da poco entrati, quindi sono nuovi nell'utilizzo della tecnologia S-Drive e altri sono esperti. Per il software, per l'utilizzo del software sapete benissimo che potete chiedere ai nostri collaboratori come si utilizza, ma poi vi ho mandato dei video, come si fa il test, come sarebbe meglio fare il test. Ricordatevi sempre che il test S-Drive è meglio farlo con una lunghezza del filo, quindi l'S-Drive è distante dal computer, intorno all'S-Drive non ci vuole nulla, non mettete apparecchi telefonini, metalli eccetera, non fate il test sopra ai neon, non vanno bene i neon sopra alla persona a cui fate il test o sopra l'S-Drive. Ricordatevi di far togliere tutti i metalli, orologi, telefonini addosso al vostro cliente paziente. Detto questo vi faccio una piccola introduzione di qualcosa che potrebbe esservi utile per i nuovi o per chi non l'ha mai ascoltato. Io faccio questa sera veramente una cosa 5-10 minuti di introduzione, ma volevo richiamare la vostra attenzione, anzi se poi magari qualcuno di voi alla fine vuole fare delle domande sono a vostra disposizione. Il fatto che noi oggi finalmente grazie alla tecnologia S-Drive possiamo prenderci a cuore di questo messaggio forte. se è vero che la salute è uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattie o infermità, è chiaro che noi oggi come oggi siamo abituati a trovare le persone malate facendole delle analisi di qualsiasi tipo. Finché facciamo un'analisi e attraverso quel biomarker che può essere semplicemente la glicemia piuttosto che il colesterolo piuttosto che tantissime altre analisi che noi siamo abituati a fare, è chiaro che facendo... Pronto? Mi sentite adesso? Ok. Quello che appunto volevo trasmettervi è che oggi, come oggi, abbiamo una grande opportunità. La grande opportunità è quella di unire i punti, cioè capire che facendo delle analisi del sangue, analisi di qualsiasi tipo, ma anche risonanza magnetica o elettrocardiogramma, il circologramma, noi troviamo un problema della salute delle persone solo quando c'è qualcosa che non va. Cioè, alla fine, glicemia, colesterolo, stress sedativo, infiammazione, fate tutti gli esami che voi siete abituati a fare. Quindi facciamo degli esami per trovare un problema o per trovare dei malati. Se facciamo una risonanza magnetica a un sano, troviamo ben poco. Se facciamo un elettrogramma a un sano, troviamo ben poco. Ma perché poi comunque questa persona fa un infarto dopo magari un calciatore con analisi perfette e a fine si accassa al suo? Cosa è successo? Quali sono le cause e le concause? Ecco che, a mio avviso, dobbiamo lavorare non escludendo degli esami che sono importanti, come ci dice Marcos, ma lavorare da un punto di vista preventivo. Se è vero che la salute, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è questa, cioè uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza malattia o infermità, dovremmo cominciare a chiederci cosa vogliamo fare per la vera prevenzione. Abbiamo una chiave per aprire questa serratura? No, ci vuole quella chiave per aprire quella serratura. Quindi anche quando parliamo di medicina centrata sulla persona, quando parliamo di un appoggio clinico integrato, deve essere a misura di quella persona, deve essere orientato verso quella persona. Quindi ci vuole una chiave che apra quella porta. Ma se continuiamo a guardare del buco della serratura, è chiaro che vediamo ben poco. Quindi abbiamo bisogno di aprire la porta e guardare le cose a 360 gradi. Probabilmente come un GPS, come fa l'S Drive, da sopra per capire dove sono i problemi. Per capire se c'è un reale rischio congelito, se ci sono delle carenze, per capire come sia importante lavorare sulla salute dei padri e delle madri prima del concepimento. Benvenuto a Bartoli, Allegri. Per capire quanto l'inquinamento possa influire sulla salute delle persone. Allora io mi dico, ma in un approccio clinico integrato, perché non abbiamo questa visione anche di tenere in considerazione quanto l'intossicazione da metalli pesanti piuttosto che l'intossicazione da idrocarburi o le stesse emozioni, o il sistema adrenergico, come abbiamo visto quando l'S Drive ci segnala determinate cose, anche a livello emozionale. Perché non abbiamo questa visione da unire quei puntini a scopo preventivo, predittivo e di supporto? Anche quando magari abbiamo una diagnosi, una malattia. Perché non andiamo alle cause? Cos'è che ci ferma? Seppure noi sappiamo benissimo quanto l'inquinamento è dannoso per la salute delle persone, quanto sia importante per la fertilità, la salute dei mitocondri, la matrice extracellulare, la disintossicazione delle persone in profondità, per poi riattivare i mitocondri, rimuovere le tossine, la necessità di certe vitamine minerali e antiossidanti che ci permettono di programmare e sprogrammare la salute delle persone. Se l'epigenetica è questa, mi chiedo se l'epigenetica è il software della vita e il computer è come un computer, hardware software, ma ogni computer che voi avete adesso davanti a voi, anche i telefonini che avete, senza un software, senza un programma, sarebbero solamente del acciaio, metallo o plastica che non ce ne faremmo niente. Quindi l'epigenetica è importante, il software è importante. Allora quando parliamo software della vita, parliamo di ambiente, parliamo di emozioni, parliamo di vitamine, minerali, di tessuti, di organi apparati, ma soprattutto parliamo che noi siamo fatti di cellule. Quindi hardware e software che comunicano tra loro, ma dobbiamo assolutamente mettergli le informazioni giuste. Perché se incominciamo a parlare di tutti quei fattori, come vedete, dalle virosi allo stress psicofisico e sociale partendo dall'intossicazione ambientale e i campi elettromagnetici, che sicuramente aumentano lo stress nitrostativo, il stress ossidativo e il danno mitocondriale, depauperano la produzione di ATP a livello mitocondriale. Quindi se un corpo è intossicato ha anche una carenza di ossiso, è inacidosi, come ci insegna i nostri maestri e il dottor Angeli Allegrini. Quante volte noi teniamo in considerazione veramente tutti questi fattori nell'insieme? Ecco che S-Drive è importante per questo, per guardare dall'alto tutti questi fattori che poi ci provano infiammazione e poi malattia. Ecco perché è fondamentale capire e avere un report personalizzato a secondo dove voglio andare a lavorare. A partire dalle emozioni, certo sono trasversali in tutto il mondo, attivano le stesse aree cerebrali in tutto il mondo. Quanto è, sappiamo la lezione che vedremo tra poco, della Diluzio, che lavora su questi aspetti, ma quanti di voi si occupano anche dello stato emozionale? Quanto è importante la riattivazione della leptina, l'asse intestino-cervello? Sì, ma anche l'intestino, l'asse proprio delle ipofisi, ipotalamo, tiroide. Ecco che finalmente possiamo incominciare a capire quale vitamina ha bisogno quella persona. Perché se ha bisogno la B1 gli do la B12? A livello cellulare cosa sta accadendo? Cioè S-Drive, questa è la nostra filosofia, ci dice cosa sta accadendo a livello delle cellule? Prima che poi questo crea un problema all'organo, poi dall'organo noi vedremo un problema nel sano. Ecco che a scopo predittivo-preventivo possiamo capire quali minerali abbiamo bisogno, quali acidi grassi essenziali abbiamo bisogno. Invece la moda è Omega 3, ma esiste anche tutto il resto. Lo vedremo nella prossima lezione della Scuola di alta formazione. Ci saranno due ore specifiche proprio su gli acidi grassi essenziali. Il sistema antiossidante, tutto il discorso del sistema gastrointestinale, a partire dalle virosi, poste virosi, quella lezione straordinaria che ci ha fatto il dottor Allegrini la scorsa volta, scorso weekend, per capire nello specifico quale impatto ambientale abbiamo. Cominciare dai campi elettromagnetici che sono la nuova pandemia. Domani ho l'onore di parlare qui a Bastia Ombra a una pratea della Scuola di Quarta Superiore insieme alla Polizia di Stato e mi hanno ascoltato in una relazione e hanno voluto fortemente che parlasse a questi ragazzi di questa scuola, saranno 300-400 alunni. Pensate la responsabilità che abbiamo e quindi la mia ha anche responsabilità di trasmettere i danni di questa pandemia che sono i videogiochi, i telefonini, i campi elettromagnetici che attivano le stesse aree cerebrali, pensate come dopaminergico, attiva le stesse aree cerebrali di zucchero e droga. Capite dove stiamo andando? E dopo se volete, all'ultimo, dopo la lezione di Marcus, posso fare dieci minuti sulle dipendenze, proprio per lavorare su uno stile di vita sano, sul rafforzamento del sistema immunitario, perché non possiamo cambiare casa, lavoro e città, è chiaro come si fa, ma dobbiamo lavorare sul ritmo di risonoveglia, possiamo lavorare sull'alteromerasi, possiamo lavorare su tutti quei fattori che possono danneggiare le cellule. Ecco perché S-Drive è fondamentale, perché lavoriamo anche su carenze specifiche per il controllo dell'omocisteina, per magari un difetto dell'MTHFR. Possiamo lavorare quindi in maniera specifica, personalizzata, per aumentare il sistema immunitario, per riprogrammare le nostre cellule, per lavorare sui padri e le madri prima del concepimento, per evitare che sprogrammiamo la vita già dentro la pancia della mamma, a livello fetale nei primi mille giorni, no, nei primi duemila giorni di vita e la salute dei padri, perché l'epigenetica aumenta il rischio cardiovascolare. Ecco, guardate, quello che sta accadendo è questo. Siamo in un aumento del 40% delle malattie croniche, noi dobbiamo lavorare lì e grazie alla tecnologia S-Drive probabilmente abbiamo un alleato importante che ci può aiutare nell'anamnesi, nel miglioramento della qualità della vita. La diagnosi le fanno i professionisti, non le fa un dispositivo, ma naturalmente noi abbiamo qualcosa che ci permette di lavorare, come dicevo prima, sul software della vita. E allora, fatta questa premessa, che mi sembrava doverosa, è con un immenso onore e piacere che passo la parola al dottor Marcos Stento. Marcos? Sì, hello. Just an introduction. I have heard, thank you so much. And it's a pleasure to be with you all. Thank you. Mike? Mike is missing. Mike. Mike, you have to turn on your microphone. Mike? No, you have to enable Mike's microphone. You have to open his microphone up. Allow him to speak. Esatto, grazie Giorgio che mi hai abilitato il microfono perché stavo impazzendo nel tentativo di attivarlo. Allora, eccomi qua. Buonasera a tutti. E scusate se c'è stato questo inghippo. Ok, well, thank you all. And thank you also to Mike for making the translation possible. Grazie, buonasera a tutti. E il dottor Marcos Stanton ringrazia anche l'interprete, cioè il sottoscritto. Buonasera a tutti. Ok, you might wonder why it's black behind me. I'm actually sitting on the coastline, but the sun has set, so it's dark by now. Allora, vi chiederete perché dietro di me c'è il buio totale. Sono in effetti al mare. Dietro di me c'è il mare, però ormai è tramontato il sole, quindi vedete buio. My wife and I, we've returned to the volcano island to continue our work, which we've talked about before, um, for two weeks. Mia moglie ed io siamo tornati qui sull'isola del vulcano, alla Palma, e siamo venuti qui, appunto, e siamo qui ancora per due settimane. Come siamo stati qui, come voi, magari molti di voi sanno, tante altre volte perché lavoriamo su quest'isola. And I've also heard that Etna now is also active again, so apparently you share the story. Ebbene, ho sentito anche peraltro che anche l'Etna ultimamente, negli ultimi giorni, si è un po' riattivata con attività esplosive. Ok, well, tonight is going to be a workshop on how to interpret S-Drive reports. Questa sera parleremo di come interpretare il report dell'S-Drive. Ebbene, Giorgio Terziani mi ha inviato il report di un paziente che per me ha rappresentato un po' una sfida e tra poco vi racconterò in che modo ha rappresentato una sfida. In former courses I had shown you examples of reports and how to interpret them and how how to read the story behind the report. In altri miei interventi con voi vi ho mostrato esempi di report dell'S-Drive, li ho interpretati per voi e poi vi ho illustrato come si leggono questi report. Vi ho raccontato storie su questi report, però talvolta ci sono casi in cui la storia del paziente è talmente complessa che non è facile raccontare la storia che c'è dietro il report. Still, using the S-Drive is super valuable at that time because it detects what the person needs right now. Tuttavia, usare l'S-Drive è di grande valore e di grande utilizzo perché ci permette di rilevare quelli che sono i bisogni del paziente in quel momento, in quell'istante. Quando ero all'università, il mio docente, professore di medicina interna, predicava sempre una cosa con molta enfasi. Mi raccomando, state attenti, non si fa mai terapia a quelli che sono i dati di laboratorio di un paziente. Noi trattiamo la persona nel suo insieme, ebbene trovavo che questo approccio fosse molto olistico considerando l'approccio tradizionale di questo professore. Ebbene, lo stesso vale per quello che noi vedremo. Se non hai la risposta ideale a quello che è il caso che ti è presentato, fai il meglio che puoi fare, con quello che c'è in quel momento, con i risultati che compaiono. Ma, ovviamente, mi conosci, io mi porto una storia in tutto il film, ma sto solo dicendo che non sempre aspettate la visione più clara di tutto. Voi mi conoscete bene, quindi adesso, dopo questa conversazione, sicuramente vi presenterò la storia. Però quello che volevo dire è questo, non avete troppe aspettative su il completamento della storia, piuttosto andate per passi uno alla volta, elemento per elemento. Ebbene, il caso che mi è stato presentato, io non conosco questo paziente, non l'ho mai visto e non lo conoscevo prima di ricevere questo report. Adesso vi mostrerò, se avete un attimo di pazienza. Mi hanno mandato delle foto della lingua del paziente. Sono quattro foto fatte dalla lingua, come vedete. Questa sindrome di cui soffre questa paziente si chiama sindrome della bocca urente. Come vedete qui c'è una lingua con una superficie non chiara e ci sono anche delle come piccole incisioni e pieghe della lingua. con una lingua del genere. Ebbene, ci sono, per esempio, anche in omiopatia delle indicazioni che dicono che una lingua del genere, con queste incisioni potrebbe presentare un caso, un sindrome che presenta laximagnesio. magnesio. E invece qui nella fattispecie non stiamo parlando di una cosa del genere. In questo caso della sindrome della bocca urente e non parliamo necessariamente e non facciamo riferimento a qualcosa di carenza. Questa sindrome si presenta con pruriti bruciori attorno alla bocca, cioè nella zona della bocca e attorno alla lingua. E queste sensazioni, queste irritazioni si possono estendere fino al torso. Ora, prima di entrare nel merito del report desidero illustrarvi alcuni elementi di teoria. Ebbene, il libro ci dice che nessuno ha la minima idea di che cosa c'è in atto, di che cosa si tratta. Ci sono delle teorie che portano o indicano il percorso verso la carenza di determinati ormoni. Perché la sindrome della bocca urente si manifesta molto spesso in fase post-menopausa. Un altro accesso di teoria è quello della polineuropatia. Now, I see the convergence of these different symptoms in a following way. Io vedo il convergere di questi sintomi nella maniera seguente. I see an irritation of the local nerves. Vedo un'irritazione delle innervazioni locali. An elevated willingness to react. C'è una propensione e volontà alla reazione, alla reattività. È chiaramente uno shift, un cambiamento del comportamento immunitario come è visibile appunto dallo stato e la natura della lingua. E poi c'è anche un accesso histaminico, cosa che non viene rilevata di solito in letteratura. Ebbene, l'aggravamento dal punto di vista neurologico, nervoso, indica anche uno stress neurovegetativo. So, maybe, Mike, you can shortly read the description that the lady had sent, so the people get a little bit of a feeling of what she feels like. You don't need to read the personal data, just the woman age and then the rest. Ok, ebbene, il dottor Stanton adesso mi dice di leggere un po' un documento, una letterina che la signora, la paziente gli ha inviato, che illustra, in questa lettera spiega esattamente la sua condizione e le sue sensazioni. La signora è una signora di 65 anni e si parla qui di capriolo, glossodinia, distesia orale, sindrome della bocca urente, quello che abbiamo riferito come appunto sintomatologia e sindrome. Allora, il dolore urente si manifesta nella bocca, soprattutto sulla lingua, con bocca secca, asciutta, le labbra si screpolano e si spaccano fino agli angoli, poi si gonfiano per poi assottigliarsi, come se volessero ritirarsi. La bocca sembra essere tutta rigata sul palato, spesso anche ci sono manifestazioni di afta. Ebbene, la signora continua illustrando l'alimentazione che segue per la terapia e dice Ho eliminato di nuovo il glutine, il mais, segale, perché ho provato a reintrodurle, ma di nuovo si era manifestato il gonfiore e anche scariche addominali. Ho tolto pure pomodori, peperoni, spinaci, melanzane, oltre a lenticchie, ananas, birra, limone, lampone, come è suggerito nel report. Non assumo zucchero, tranne una zolletta di cioccolato extra fondente con l'unico caffè della giornata. Mangio più che altro mele per merenda con un cucchiaino di olio di lino e uvetta biologica. Non faccio colazione. A volte aggiungo due albicocche secche biologiche. Mangio tutti i tipi di riso, pasta di riso, a volte con aggiunta di teff, sorgo o quinoa, ma poca. Mangio semi di canapa, girasole, lievito alimentare inattivo, olio di cocco e olio evo. Ho provato anche con olio vinacciolo, tutti spremuti questi oli a freddo e bio. Aggiungo humeboshi all'insalata. Poi, per quanto riguarda i legumi, mangio bianchi di spagna e cannellini, soia e ceci solo ogni quattro giorni. Ho tolto pure la lattuga, mangio radicchio rosso, rucola, valeriana, erbe di stagione, cavolfiore, versa, cipolle, aglio, carote, zucca, zucchine, puntarelle, finocchi, rape, sedano, qualche pera, mango, avocado, raramente banane, patate, due castagne, olive, capperi, nocciole e mandorle. Ho eliminato pure le noci e i fagioli, i cachi e gli anacardi, la senape, la paprika affumicata, che amavo tanto, ed ogni altra spezie. Uso salvia, prezzemolo, rosmarino, alloro, sale e insaporitore di verdure, fatto in casa. A volte tapioca come addensante. Mangio raramente polpette vegane, ma sto attenta che non vi siano glutine o ingredienti sopra citati. Per quanto riguarda gli integratori, prendo Cell Food, Bio Nergen, vitamina B12, Ostegeos, 2L zona, ho aggiunto Echinacea, A, Ala, vitamina E, vitamina C, vitamina B8, probiotici e lisina. Le afte ora sono rientrate, ne ho solo una piccola. Ho fatto anche una seduta di igiene dentale. La bocca a volte è secca, ma non brucia più come bruciava prima, prima di conoscerti, dottor Stanton. E incomincia la cura. Sento che le cose vanno. Calcolando i progressi, che nonostante anni di tentativi le persone del gruppo sindrome boccaurente hanno avuto, sono contenta. Ma la cosa mi spinge anche a sperare che, grazie a voi, troveremo una vera cura. È valida per tutte queste persone che soffrono della stessa sindrome. Io sono arrivata sull'orro del suicidio e non esagero nel fare questa affermazione. C'è gente, conosco persone, ho sentito di persone che ne soffre da dieci anni. Ma quel che mi spaventa è che il loro bruciore è sceso fino in gola, fino ad arrivare ai piedi in taluni casi. Si stordiscono queste persone con psicofarmaci. Un'altra cosa nel gruppo, solo un uomo nel gruppo di questi pazienti affetti di questa sindrome, solo un uomo commenta e si confronta. Sono tutte donne di solito che ne soffrono, donne che dopo migliaia di diverse analisi, TAC, elettromiografie, eccetera, hanno ricevuto la diagnosi di sindrome della boccaurente. Qual è la cura? Sconosciuta. I consigli che vengono forniti? Zero. A volte possono servire, dicono, i psicofarmaci, le vitamine e un'integrazione psicologica. Peperoncino, giusta postura della lingua e ho fatto infatti pure la ginnastica della bocca e della lingua. O talvolta laser terapia o agopuntura e ho fatto anche quelle. Ok. Grazie Mike. Volevo dire che questa è una paziente che è stata seguita sia dalla Laura Orgiana, ma anche e soprattutto dai consigli del dottor Bartolomeo Legrini. Mike, I'm sorry, I didn't understand what Giorgio just said. Giorgio said, he pointed out that this patient, that we just read the letter of, has also been followed by Professor Allegrini and Professor, Giorgio, Professor Allegrini. E la dottoressa Laura Orgiana. And Dr. Laura Orgiana. Yes. Actually, I noticed in terms of the therapy, I saw from the things that were given, I saw that personal signature. Ok, so I suspected that. Voglio dire, Giorgio, e a tutti anche, che avevo sospettato che i due dottori che hai citato fossero coinvolti. L'ho intuito leggendo o ascoltando questa presentazione, sì. Not too many. Ha fatto questo nuovo S-Drive e quindi voleva avere un aiuto da tutti noi, insomma, da te. Ok, so this lady has now undergone another S-Drive test and she would like now to receive feedback from you. Yes, of course, I understand. Ok, so basically you have now understood the complexity both of the syndromes and possible accesses to these symptoms. Quindi avete sicuramente adesso compreso sia la sindrome e anche quelli che sono i sintomi e gli accessi ai sintomi che caratterizzano questa sindrome. Adesso, prima di presentarvi i tre report, in maniera da farvi vedere proprio la cronologia tra l'uno e l'altro dei tre report, C'è una cosa da tenere presente, proprio per tenerla presente nella nostra lettura di questo caso. Obviously, these burning mouse syndrome and all the sensations she was describing are not just a simple irritation of nerves. Ora, chiaramente, sia questa sindrome della bocca aurente e i sintomi che questa signora ci ha illustrato non sono, non possono essere solo sintomi e sindrome legata a, appunto, reazioni solo di natura nervosa. E' chiaro che i nervi danneggiati a questo livello, deteriorati a questo livello, presentano una loro significanza. And I presume a partial demuelinization of the nerves, demuelinization, so it has a myelin cover around them and that is partially reduced. Ipotizzo anche una deliminazione attorno ai nervi come conseguenza. Demuelinization. Demuelinazione. 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 Sì. Yeah. And so, therefore, whenever this takes place and you have the same phenomenon with a multiple sclerosis. E quando avviene questo, questa demuelinizzazione, avviene questo fenomeno anche con la sclerosi multipla? Si rende necessario attivare la riparazione di queste strutture. So, we also have to make the connection that part of the building of demuelin also is supported by the gut function. Dobbiamo assolutamente fare la connessione per cui questa funzione della demuelina deve essere attivata anche attraverso un processo intestinale. E allo stesso tempo tenere presente che ci possono essere tossine e fattori irritanti che soggiacciono a questo processo. E parlando della bocca, visto che si tratta della bocca, ci possono essere altri aspetti che talvolta vengono sottovalutati o non visti. In effetti, l'utilizzo di diversi metalli nelle otturazioni dentarie generano appunto delle contaminazioni a livello della bocca. Ebbene, cosa si manifesta in questi casi? Cioè, questi diversi metalli portano a un potenziale redox e la saliva in bocca agisce come agirebbe l'acido di una batteria. Actually, you can measure this current with special devices. Si produce, insomma, una sorta di corrente elettrica che è possibile misurare con dispositivi speciali. Another possibility is the use of amalgamum before Un'altra possibilità è quello dell'utilizzo di determinate amalgame With containing not only mercury, but also other toxic heavy metals Che contengono non soltanto mercurio, ma altri metalli tossici So, all this has to be taken into consideration Quindi sono tutti questi i fattori che vanno tenuti in considerazione, oltre a quelle altre cose che abbiamo detto Adesso vi mostrerò i tre report per poterli confrontare partendo da sinistra andando verso destra Allora, il report che vediamo qui alla sinistra è stato fatto il 22 dicembre Scusate, nel dicembre del 22 Sì, the middle one is from August of this year and the right one is from November of this year Allora, quello di centro è stato fatto nell'agosto di quest'anno E quello di destra è a novembre di quest'anno So, if we look at this in comparison, I'm sorry You will have to look more closely because the writing is a little bit smaller then Chiaramente qui non si riesce a leggere bene perché è scritto molto piccolo Quindi dovrete avere pazienza What you see in the original report are the following priorities Allora, nel primo report, quello di sinistra, quello datato dicembre del 2022 Vediamo, come dire, sottolineate alcune priorità A lack of minerals Una carenza di minerali A demand for acidi grassi Una richiesta di acidi grassi Specific vitamins Vitamine specifiche An indicator for elevated radiation C'è un indicatore che riguarda elevati contenuti di radiazioni And a demand for amino acids C'è anche una richiesta, un fabbisogno di aminoacidi Adesso cerchiamo di fare una lettura da una posizione più elevata Partiamo da quelli che sono gli indicatori di sistema che possiamo ritenere prioritari Che hanno un impatto appunto sul sistema Quello che viene messo in evidenza Tra questi che sono in evidenza Il primo che vediamo è quello relativo al metabolismo degli zuccheri C'è un fabbisogno al livello del sistema muscolo-scheletrico C'è uno squilibrio al livello dell'enterobioma E c'è un disturbo nel metabolismo degli acidi grassi Quindi se noi adesso facciamo una meta lettura Abbiamo al primo posto un blocco metabolico Secondo, se c'è uno squilibrio al livello del sistema muscolo-scheletrico È molto probabilmente che un'attività di ATP In realtà è il fattore di questo Se c'è uno squilibrio al livello del sistema muscolo-scheletrico Questo indica che c'è una carenza nell'attività o nella produzione dell'ATP E il terzo che è lo squilibrio dell'enterobioma Che porta o indica un certo presupposto Che il fenomeno dell'intestino gocciolante Potrebbe essere uno dei fattori primari Che porta a questo stato, a questa condizione E come dicevo prima, c'è un blocco metabolico Sia a livello degli zuccheri che a livello degli acidi grassi Now, if a leaky gut syndrome is in the picture Obviously that is a contributing factor For the resorption of minerals, of vitamins and of amino acids Chiaramente se c'è un problema di intestino gocciolante Questo conduce a un problema di assorbimento A livello di vitamine, minerali e quant'altro Quindi entrambe queste situazioni sono possibili O che c'è un cattivo assorbimento Oppure c'è un'assunzione eccessiva ma non c'è Sorry, can you repeat the second part? So there's a problem of absorption And the other thing was And the other possibility is that there's an elevated consumption Meaning that there's an exceeded demand Due to the pathological processes Ah, capito Quindi un cattivo assorbimento Oppure c'è un fabbisogno eccessivo di quelle sostanze Perché ce n'è una carenza che è molto molto forte So if we read through the specific factors here There's one thing I would like to point out Ora se andiamo ad esaminare i vari fattori qui Ci sono delle cose che voglio mostrarvi ed evidenziare If radiazione shows up as one possible factor This doesn't necessarily mean that that refers to radioactive radiation as such Come dicevo prima, qui viene messo in evidenza un problema di radiazioni Ora, questo non vuol dire necessariamente che stiamo parlando di radioattività In senso letterale del termine One frequent factor that also shows us radiazione Can be so called Wait a second What would be the English term for that? Disturbances in the living environment Ok Quindi per esempio Per radiazione Quando parliamo di radiazione Come in questo caso Che viene evidenziato nel report Un fattore potrebbe essere legato all'ambiente in cui si trascorre il tempo Cioè il luogo in cui si vive Which means that there is a certain There is a certain field in the living environment Or where the people spend their time most That is a disturbance for the bioinformation field of the person Quindi quando noi parliamo di radiazione in questo caso Non vuol dire necessariamente radioattività come dicevo prima Significa semplicemente che la persona vive in un contesto in cui c'è un campo Che interferisce con il sistema Con il suo sistema bioinformativo Something I have seen quite often in people with multiple sclerosis So that could be a possible conjunction E questa è una cosa che ho riscontrato In molte persone affette da sclerosi multipla E quindi questo è un fattore Che io tengo molto in considerazione Perché è qualcosa che si aggiunge agli altri elementi e fattori Ora se abbiamo capito il perché qui sono coinvolti gli aminoacidi A causa dell'intestino gocciolante Adesso passiamo al paragrafo vitamine Ora qui viene evidenziato la vitamina E perché cattura i radicali liberi Abbiamo la vitamina K2 perché è un supporto al sistema Sorry, what system does K2 support? The metabolic, I'm sorry, the general metabolism Quindi la vitamina K2 perché supporta il sistema metabolico in generale The same is true for the inositol Lo stesso vale per l'inositol And vitamin B1 as a specific helper for nerves and nerve integrity E la vitamina B1 perché è importante e aiuta per l'integrità del sistema nervoso We have seen a general block in the metabolism So therefore the fatty acids are there as well to help in disbalance C'è un blocco a livello metabolico Ecco perché sono evidenziati gli acidi grassi Now looking at the top runner which is the lack of certain minerals Se andiamo a una che viene evidenziata come prioritaria Cioè la carenza di determinati minerali We have iodine as a general helper for the metabolism Through the thyroid function E abbiamo lo iodio che aiuta il sistema metabolico Attraverso l'attività della tiroide E qui abbiamo un fabbisogno di boron Che appunto si rileva perché l'attività tiroidea è molto ridotta Non la tiroide ma la paratiroide Ha una sottoattivazione Quindi abbiamo lo iodio per la tiroide e il boron per la paratiroide Che implica una carenza di energia funzionale Al livello della regione del collo Che potrebbe essere un'indicazione di un Epstein bar Che è presente un po' come retroscena So I would not be surprised if that pops up in a later report As the background story to everything that's in the foreground Infatti non mi stupirei se questo aspetto legato all'Epstein bar Si manifestasse più avanti come la storia sottostante A tutti quegli elementi che invece compaiono in primo piano Abbiamo il magnesio per aumentare l'energia nel processo dell'ATP Chiaramente questo è logico Visto che c'è un problema metabolico Bisogno di accelerare il metabolismo E c'è una carenza di energia Questo fa bisogno di magnesio quadra Il corpo utilizza il magnesio come ione centrale Per riempire l'ATP around it Il corpo utilizza il magnesio come ione centrale A cui avvolgersi Il magnesio si avvolge sull'ione E quindi così avvia il processo Quindi è come se venisse sottoposto ad un'attenzione Come quando tiriamo l'arco per tirare la freccia E così con la metafora della freccia e l'arco Vediamo che è un po' questo il processo che avviene Per il gruppo del fosforo Appunto che deve essere sprigionato Lanciato per fare la funzione Ed è così che funziona il magnesio E aiuta il sistema muscolare Non perché aiuta il sistema muscolare in quanto tale Ma perché agisce sull'ATP Che poi a sua volta si ripercuote sull'attività muscolare L'ATP rilassa la testa dei muscoli In modo da rilassarli E poi c'è infine il silicio qui che viene indicato Perché è importante per il tessuto connettivo Allora, vediamo adesso Quelli che sono gli indicatori qui Che vengono relazionati nel report Relativamente a quegli alimenti A quei cibi che riducono l'energia Nel organismo di questa paziente Qui vengono evidenziati i broccoli Perché broccoli contengono una certa substanza Che è un elemento importante nel processo di disintossicazione Se un organismo lo rifiuta Dice no, non sono pronto per questa sostanza Vuol dire che l'organismo non è ancora pronto alla disintossicazione Questo vuol dire che c'è una carenza di energia C'è una carenza di libertà da parte dell'organismo A avviare un processo di disintossicazione appropriato E quindi non dobbiamo forzarla quella disintossicazione Assolutamente Bisogna aspettare che l'organismo Giunga ad uno stato in cui è pronto Per poterla o volerla affrontare So, looking at the second report now The picture has changed Allora, adesso passiamo al secondo report E noteremo che il quadro si è modificato The amino acids are now the top runners Adesso la priorità Al primo posto abbiamo gli aminoacidi Se noi osserviamo il dettaglio di quali aminoacidi sono coinvolti Qui si comincia a delineare un quadro Taurina is in there So, which is a general helper for energy C'è la taurina che è qualcosa che aiuta dal punto di vista dell'energia You know about the drink with the, you know The one with the wings, you know Conoscete quella bevanda che ha il brand con le ali, vero? So, and glutamic acid is shown in there E l'acido glutamico pure viene qui evidenziato As a possible helper in the metabolism of the enterocytes The inner cells of the intestine Appunto come un qualcosa che aiuta il metabolismo degli enterociti And metionine is shown as a general donator of methyl groups for the metabolism E la metionina perché aiuta fornendo gruppi metallici per il processo And cisteina is also shown here La cisteina c'è anche evidenziata Which is a helper Because it's one of the three peptides that glutathione is built on E uno dei peptidi del glutathione So, that fits with the intercellular processes E questo fa la quadra con i processi intercellulari Now, the second runner, the second priority here is the fatty acids Poi, la seconda priorità sono gli acidi grassi But a new element that's shown here Is a problem with chemical substance and hydrocarbons Qui abbiamo un nuovo elemento che ha a che fare con le sostanze chimiche Sorry, chemical substances and And hydrocarbons E gli idrocarburi Quindi idrocarburi e sostanze chimiche And that shows that now the body by itself Starts to go into the process of detoxification E questo che cosa fa? Questo è un indicatore Quindi gli idrocarburi e queste sostanze chimiche Sono un'indicazione che il corpo si è già predisposto Ad entrare nel processo di disintossicazione Which then also shows by a lack of zolfo E questo viene confermato altresì Da un fabbisogno di zolfo Which is a general helper in detoxification processes Che appunto è un generico Un elemento generico Che aiuta nel processo di disintossicazione We cannot allocate zinc With a specific process Because it has so many functions in the body But it is also a helper in detoxification Anche lo zinco Aiuta nel processo di disintossicazione Però lo zinco non possiamo collegarlo Così come abbiamo fatto per lo zolfo Perché lo zinco ha tantissime altre funzioni Molto molto importanti And we still have the iodine and the silicon As still a demand that's still continuing E vediamo e riscontriamo anche in questo secondo report Un fabbisogno di iodio e di silicio Che continua a persistere Now if we continue to the most recent report On the right side Adesso passiamo al terzo report Quello che abbiamo qui sul lato destro Ancora una volta vediamo un cambiamento del quadro Now what shows here as the priorities Quali sono adesso le priorità The first and topmost is a demand still for the fatty acids Al primo posto vediamo il fabbisogno di acidi grassi We have radiazioni showing again like in the original report C'è ancora in evidenza il capitolo radiazioni come c'era nel primo And so this seems to be a persistent problem for the body E quindi pare che continui questo problema persistente per l'organismo E chiaramente qui si evidenzia ancora una volta questo problema Sono convinto Non ho usato questa parola prima Ma il problema è geopatico Si chiama geopatico Questo problema legato all'ambiente in cui vive il paziente Quindi che crea quel campo Quel campo bioinformativo di cui abbiamo parlato prima Adesso viene usato questo nuovo termine Geopatico Now the sensitivity to electromagnetic frequencies and low frequencies now shows Adesso si manifesta la sensibilità nei confronti delle frequenze elettromagnetiche Nei confronti delle basse frequenze That hasn't shown before But it now seems to appear due to a different cause Questo non si era manifestato nei due report precedenti Qui adesso per varie cause diverse Comincia ad essere evidente Infatti in alto a destra per la prima volta sul report compare la questione dell'energia La produzione di energia La produzione di energia La produzione di energia compare e viene messa in evidenza come fattore Praticamente più c'è rivendicazione nei confronti dei mitocondri a produrre energia Più si manifesta il problema Oppure più viene messo in evidenza nel report il problema appunto delle frequenze Quindi vedete, cominciate a vedere che con il report e l'S Drive Noi cominciamo a leggere la storia E poi la storia che c'è dietro la storia E la storia che c'è dietro la storia E la storia che c'è dietro ancora quell'altra storia Quindi cominciamo ad entrare sempre più in profondità Per quanto riguarda i sistemi regolatori E cominciamo a vedere E intravedere e poi vedere Gli squilibri che si generano in questi sistemi di regolazione E se noi guardiamo adesso il capitolo delle vitamine Vediamo qui la combinazione con la vitamina B9 e B12 Which is a proof, basically, for nitrosative stress E questo è la prova di uno stress nitrossativo Nitrossativo Biotine is in there as a demand That's vitamin B7 E c'è anche la biotina Fa bisogno di biotina Vitamina B7 7, yes Che è appunto vitamina B7 Which is a helper for energy production Che aiuta alla produzione di energia And vitamin B3 as a general helper in terms of the nerves E anche la vitamina B3 che aiuta il sistema nervoso And if we look at If we look at the If we look at the minerals that are in demand here Andiamo a vedere quali sono le carenze di minerali Sodium and potassium both show up Sono evidenziati sia il sodio sia il potassio So it is likely that the cell membrane potential is disturbed and not in its balance E' probabile che quindi c'è una perturbazione a livello della membrana cellulare Che non è in equilibrio What to do in this case is to help out with potassium To rebuild that difference Che cosa si fa in questi casi Si aiuta con l'integrazione del potassio Che è un aiuto in queste circostanze Now in Italy that's very easy But all you need is a good pomodoro Grown on an old fertile ground Ebbene in Italy questo è facile Perché basta un buon pomodoro Alla vecchia maniera Coltivato su un buon terreno Remember they have to grow With a proper age And an old soil And that's how they contain most elements Ricordatevi che il pomodoro In questo caso Deve crescere in un terreno sano Fertile Che contiene tutti i minerali necessari In modo che il pomodoro acquisisca tutte le proprietà genuine e necessarie Che servono per il potassio Allora a questo punto Se noi osserviamo tutti e tre insieme questi report E vediamo i diversi sintomi E i diversi elementi che emergono Che quadro possiamo dipingere Non c'è una storia chiara E talvolta bisogna anche accettare questo stato di cose Perché? Perché ci sono influenze molteplici che agiscono Per quanto riguarda questo paziente Questa persona C'è un intestino gocciolante Che è alla base Di un sistema Appunto metabolico Non equilibrato C'è un impatto Sull'integrità del sistema nervoso C'è anche una certa quantità di stress nitrossidativo Che agisce sul sistema nervoso There is a block metabolism Which doesn't only lead towards a low energy But also that any metabolic process is impaired Ma c'è anche un blocco Oxidative block Right you said Metabolic block Metabolic block C'è un blocco metabolico in generale Appunto Che ha un impatto Sulla produzione di energia E ci possono essere anche altre influenze legate a quella geopatia di cui si parlava prima Quindi l'aspetto ambientale Quindi l'aspetto ambientale Che genera tossine Che hanno un impatto appunto A livello della bocca e della lingua E poi quell'altra cosa a cui ho accennato C'è la possibilità Che ci sia una carica elettrica Che circola Come un flusso elettrico Che circola a livello della bocca Passando attraverso i metalli che vengono contenuti E l'interazione con la saliva Which might also change after the menopausis Because then also the saliva and the juices change due to the hormonal change Un fenomeno che questo si può accentuare o cambiare appunto In concomitanza con la menopausa Perché le trasformazioni ormonali in quella fase della vita Generano appunto questi cambiamenti So those are all factors to take into consideration Quindi questi sono tutti i fattori che vanno tenuti in considerazione And what is important Even if there is no clear path I've sketched out quite a few possibilities now But even if you are not able to see a clear path Still it is highly sensible To follow the suggestions by the Estorab report Because that's something that the person needs right now Ebbene ho detto e ripeto Anche se ci sono varie possibilità a questo punto Come le ho elencate così illustrate come ho appena fatto Non c'è magari un sentiero chiaro da percorrere, unico È consigliabile assolutamente seguire gli indizi Che vengono forniti da questi report, dall'S Drive Seguire gli indizi Quindi abbiamo adesso, come dire, un quadro Grazie a tutti e tre il report E mi complimento con Bartolomeo Perché appunto le indicazioni che ha dato alla paziente Sono appropriate proprio alla luce di quanto abbiamo appena illustrato And what I have read now from these reports Is it is important to support these underlying blockages To support those parts where the bottleneck is Quindi quello che leggo io Per trarre una conclusione di questi report È quello che si rende necessario un supporto a questi blocchi Ci sono questi blocchi che abbiamo individuato Ci sono blocchi metabolici e tutto quello che abbiamo detto E quindi è necessario a questo punto supportare quello che serve riguardo questi blocchi And there are If I look at the prescription given And with the different factors that are given here There is actually There's actually not much missing right now Se osservo la prescrizione che è stata fatta E i differenti fattori che sono stati considerati Non c'è molto che manchi I would consider giving folate B9 additionally To improve the reduction of the nitricity of stress You said F9? B9 B9 Yeah B9, folate Yes I would add zeolites To use locally in the mouth And also to ingest to detoxify Allora, io suggerirei, aggiungerei a questo altro mio suggerimento Oltre alla prescrizione già fatta Aggiungerei la somministrazione di zeolite Come dire, risciacqui di zeolite in bocca Cioè applicazione di zeolite in bocca E anche da consumare Also to reduce a possible histamine access Anche per ridurre la possibilità di accesso histaminico E poi aggiungerei anche sciolina all'inizio And I would add I would add What's the name In English A natural form of lecithin In order to also propel and improve the nerve reduction Lecithin E poi aggiungerei anche lecitina naturale Per aiutare e migliorare la condizione dei nervi Aggiungerei anche un elemento funzionale Per modificare la transluzione nervosa Che è l'acunitum napellus Che è l'acunitum napellus As you would use that as a D6 or D8 Da usare in dosaggio D6 e D8 Because that changes the threshold Meaning that pain is not transmitted so easily Questo trasforma la soglia del dolore Che vuol dire Che vuol dire Che somministrando questi Questi rimedi Si riduce L'effetto del dolore Something you can also use For example When someone has an amputation And there's phantom pain You use the same principle Si usano questi stessi principi A questi rimedi Anche quando Dopo un'amputazione C'è il dolore dell'artofantasma So those are all possible factors For a combined picture Of local polineuropatia 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 Questi sono tutti i fattori Abbinati in un quadro di polineuropatia And one thing that's clear Because She is blocked on so many levels You need time To rewind the whole picture E poiché questa paziente Ha veramente numerosi blocchi A vari livelli Bisogna avere O bisogna dare Il tempo Il tempo affinché Le cose facciano Il proprio corso So Using the S-Drive report Battolo and his colleague Are on a super path Following Following these suggestions And infatti Grazie I'm sorry I'm sorry They are on a super path With what they are doing right now Quindi Con l'ausilio dell'S-Drive Bartolomeo E la sua collega Veramente Sono su Un super path Cioè Su un percorso Super Tradotto letteralmente No Avendo Fatto la prescrizione E l'analisi Che hanno fatto Però si richiede tempo Ci vuole del tempo Per portare A una certa evoluzione Andando passo per passo Per gradi Ok Giorgio So now I think This has been very extensive In a very complicated picture To bring some light Into that Allora Giorgio Credo che Sia stata abbastanza Esauriente ed esaustivo Per Parlare di un caso Sicuramente Complesso Yes Thank you very much Very Very incredible And Una cosa meravigliosa Avere Insomma La tua visione La tua Conoscenza E il contributo Che puoi dare A Di nostri centri S-Drive Marcos Quindi Grazie di cuore Marcos Thank you very much Thank you for your vision For your support For your knowledge This is very helpful To help And provide Advice On how to use Yeah And one thing That would be Very good for her Would also be The energy Lanyard Because that would Help the energy Exactly around here Yeah Una cosa che potrebbe Essere di grande aiuto Per questa signora E appunto questo Il collare energetico Che sta illustrando adesso Il dottor Terziani I have Yes exactly I have here too I'm just I'm gonna wear it As soon as this This is through So How about Would you want me To show the second report Now Do we still have time Volete che illustro Abbiamo ancora del tempo Per illustrare Il secondo report Tu l'ho mandato via email I have sent you via email Yes I've got that I've got that Thank you Ok so If you may allow Could we make a pause Of two minutes Because I'm gonna have To get something To wear Because it's getting cold Of course And then I'll continue In two minutes Maybe you say a few words We wait for you Five minutes No problem Thank you Perfect Facciamo una pausa Di due minuti E poi torniamo Per parlare Del secondo report Il dottor Marcus Stanton Deve mettere qualcosina Perché fa fresco adesso Grazie 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 Aspettiamo un attimo Ragazzi Insomma Penso che stiamo Facendo un lavoro Meraviglioso Con questa Grande Opportunità Che abbiamo Di condividere Non so Dovrebbe esserci Anche Bartolomeo Questa sera Non so se c'è Bartolo Se è già collegato Se ha avuto modo Di esserci Adesso Tra cinque minuti Per chi si è collegato Adesso Tornerà Marcus Per Per Illustrarci L'ultimo caso E anche stasera Insomma Penso Che abbiamo dato Qualcosa di straordinario Abbiamo un altro caso Da affrontare Non abbiamo L'anamnesi Perché non mi è stato Dato nessun tipo Di anamnesi Solo L'età E E questo report Io chiedo sempre Se per piacere Quando mandate i casi Fate anche un elenco Dei Dei problemi Che ha questa persona Ma Non mi è Non mi è stato Insomma Non mi è stato Mandato nulla E Aspettiamo Cinque minuti E Aspettiamo Marcus Che arriva Insomma Stiamo facendo qualcosa Di meraviglioso L'S Drive Sta crescendo Sempre di più Come sapete Adesso Con Stiamo lavorando Anche a un progetto Che ci vede In ricerca scientifica Anzi saluto La professoressa Peno Per La ricerca Che stiamo facendo Sulla longevità Con l'Università di Sassari Saremo a Cagliari 22 Per un progetto Importante Per S-Drive Metabolomica Con l'Università Di Cagliari Quindi Stiamo crescendo Portando Sempre più Supporto Non solo Insomma Clinico Ma anche Di ricerca Anche che Anche se Come sapete Con una molle Di dati Così importanti Che ci dà La tecnologia S-Drive E l'intelligenza Artificiale Noi non troviamo Malati Ma diamo Soluzioni Ai problemi Salve prof E quindi Se vuoi Non so se riesci Grazie A aprire Il tuo microfono Aspetta Eccolo qua Puoi attivare il microfono Grazie Se vuoi So Ah Eccolo Eccola qui Grazie Buonasera No Insomma Il nostro progetto Che stiamo facendo Se vuoi dire due parole Grazie Come vuoi Certo Intanto Buonasera a tutti Buonasera Marcus E complimenti Università di Sassari Naturalmente Patologia generale Della Università di Sassari Io lavoro All'Istituto di Anatomia Patologica Della Università di Sassari E effettivamente L'incontro con Giorgio Devo dire E' stato Folgorante Folgorante Infanto perché Ha permesso Ad una scuola Di dottorato Esattamente A due dottorande Che tra l'altro Ci stanno ascoltando La dottoressa Pischi E la dottoressa Lai Di poter Intraprendere Una via Un formato Un formato Anche Giorgio Adesso va bene Ci vedremo A breve A Cagliari Stiamo veramente Riscuotendo Un grandissimo Interesse Per quanto riguarda Ormai Questa Filosofia di vita Che è One Che vede Uniti Sia naturalmente L'uomo Sia L'animale In un percorso Comune Che è quello Naturalmente Di prevenire le malattie Quindi un percorso Di salute Perciò devo dire Dobbiamo secondo me Andare assolutamente Avanti Da parte nostra La collaborazione La convenzione Che a breve Io sto preparando Tutto E Giorgio A breve faremo Con l'università E anche con l'associazione Che tutela Il DNA Dugliastra Ci permetterà Secondo me Di raggiungere Dei traguardi Molto importanti E peraltro Altamente diffusibili Attraverso lavori scientifici E chiaramente Anche all'interno Di queste colle Che sono Molto Molto interessanti Che destano sicuramente Tanto e tanto interesse Grazie Grazie di cuore Sto aspettando Grazie Grazie a tutti voi E grazie a Giorgio Marcos Sì I think Mike Sì Ho mandato Un report Nuovo Con Proprio L'ultima email Che gli ho mandato È meglio Che faccia Quello Perché c'è anche Tutta l'anamesi Ok Ok Giorgio Just sent You Another Email Yes With a New report And he suggests That you Deal with this I cover this One first And if you Permit And if you Want to I would do that Blindfolded Without any Information Beforehand Allora Allora Giorgio Se desiderate Posso farlo A occhi Bendati Come dire Senza informazioni Preliminari Cioè Leggo il report Senza sapere Nulla del paziente Ok Questo ultimo Che gli ho mandato Proprio adesso Ha anche Tutta la storia But this Later One That you Just received Has The story I see It But I Haven't Read it Lo vedo Lo vedo Ma non lo voglio Leggere If you want to It's just an offer If you want to Se volete È una proposta Che faccio Un'offerta Yes Please Ok Fine So We will do This We will do This Blindfolded So Quindi Lo facciamo Come per dire Bendati Senza Leggere Le informazioni Preliminari Che arrivano Col report Ok So Let me Have a Second Look Here Yes Ok Fine Perfect So You should Be able To see The report Now Adesso Credo Che Possiate Leggerlo Sullo Schermo Il report Giusto So What We see As Priorities With This It's A Woman So That That As Much As I Know So Che È Una Donna È L'unica Cosa Che So So We Have The Main Topic In Terms Of Foods Abbiamo Gli Alimenti Come Argomento Primario There's There's Elevated Sensitivity Against Electromagnetic Fields And Low Frequencies C'è Un'elevata Sensibilità Nei Confronti Delle Interferenze Elettromagnetiche E Can Di Frequenza We Have A Problem With Specific Parasites Abbiamo Un Problem Con Alcuni Parassiti Specifici We Have A Problem With Toxic Metals Abbiamo Appunto Una Questione Di Metalli Tossici And A Lack Of Antioxidants E Fa Bisogno Una Carenza Di Antiossidanti Allora Mettendo Insieme Tutto Quello Che Abbiamo Appena Elencato Ci Porta A Dei Fattori Guida Se Vogliamo Delle Linee Guida Sui Fattori C'è Un'elevata Probabilità Che Ci Sia Un Problema Di Intestino Gocciolante Come Problema Di Base Che Rappresenta Un Elemento Forte Per Un Sistema Immunitario Sbilanciato Allo Sesso Tempo C'è Un Sistema Immunitario Sbilanciato Allo Allo Sesso Tempo C'è Un Problema Di Tossine E Queste Tossine Possono Essere O Un Elemento Che Peggiora La Condizione La Sindrome Del Intestino Gocciolante Oppure Può Esserne Addirittura Possono Esserne La Causa Chiaramente Con Un Sistema Immunitario Squilibrato C'è La Sfida Di Dover Combattere I Parassiti And Hen And Egg Oh I See Monica Is Following My Example With Putting Something On So It's Warmer I'm Kidding Around Ok Obviously You Then Have A Problem In Fighting That Off E Chiaramente Qui C'è La Question Di Doverli Combattere Questi Parassiti Qualora Appunto Siano Presenti And At The Same Time If There Is A Problem With With Fungi That Can Also Contribute To A Block System E Lo Stesso Se Ci Sono Presenti Dei Funghi Ci Sono Micosi Questo Contribuisce Al blocco Del Sistema The More Irritated The Immune System Is The More Likely Also That The Energy Production Of The Mitocondria Gets Lower E Appunto Con La Composizione Del Sistema Immunitario In Questa Maniera Chiaramente Viene A Sua Volta Compromesso La Produzione Di Energia A Livello Mitocondriale So If We Look Down Towards The Immune Page Quindi Se Passiamo Alla Pagina Relativa Al Sistema Immunitario This Actually Proves What I Just Said Questa Pagina Conferma Quello Che Ho Appena Detto Because The Overall Value Priority For Immune For Immune Support Is At 111 Which Is A Very Very High Value Il Valore Totale Che Riguarda Appunto Il Sistema Immunitario In Questo Caso Il Supporto Al Sistema Immunitario Il Valore Totale Di 111 Lo Vedete Qui In Basso E Questo È Un Valore Molto Elevato And What Is The Main Influence On Immune Function What Is The Main Access For Disbalance E Quali Sono I Vattori Principali Di Questo Squilibrio Quindi Nella Funzione Immunitaria That We Cannot Directly Say But What We Can Read Are The Factors Which Would Help To Rebalance Allora Non Possiamo Dirlo Non Possiamo Dare Una Risposta Diretta A Questa Domanda Però Possiamo Qui Nel Report Leggere Su Questa Pagina Quali Sono Gli Elementi Su Cui Possiamo Intervenire E Agire And With The Value Of 34 On The Second Column From The Right This The Main Strongest Influence We Can Give Are Through Antioxidants E Come Vedete Nella Seconda Colonna A Partire Da Destra Il Valore Più Elevato Corrisponde Alla Zona Dei Marcatori Antiossidanti Il Valore Di 34 Il Valore Più Elevato In Quella Colonna Quindi Attira La Nostra Attenzione Su Questo Segmento Che Riguarda Gli Antiossidanti An Oxidative Or Metabolic Stress Is Typical As A Follow As As One The Main Sign For Leaky Gut Syndrome E Uno Stress Ossidativo E Uno Degli Indicatori Primari In Un Sindrome Da Intestino Gocciolante So Basically There Is A Very High Demand To 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 Rebalance The Immune Function Quindi C'è Una Rivendicazione Molto Forte Qui A Riequilibrare La Funzione Immunitaria So Even With This Little Information Given There Is Super High Demand For The Following Leading Factors In Therapy E Quindi Anche Con Pochissime Informazioni E Con Quello Che Semplicemente Leggiamo Qui Sul Report Abbiamo Gli Elementi Che Ci Servono Per Indicarci La Strada Quali Sono I Fattori Su Cui Inter Intervenire Number One Is To Treat The Situation In The Intestinal System Primo Trattare Appunto Il Sistema Intestinale Second Is To Support The Mitocondrial Energy Production Due Supportare La Produzione Di Energia A Livello Mitocondriale Third Would Be To Help In Reducing Parasites To To Alleviate The Immune System Of Having To Take Care Of That Tre Ridurre La Parassitosi Cioè I Parassiti Proprio Per Alleviare Lo Stress Sul Sistema Immunitario And To Detoxify E Per Avviare Un Processo Di Disintossicazione So Basically You Would Use For Treat In The Guts You Would Use A Combination Of Maybe The These Following Examples E Quindi Per Delle Cose Che Sto Per Elencare You Would Use You Would Use The Cell Food As A General Influence Cell Food Come Fattore Elemento Che Possa Dare Un' Influenza Generale Useremo La Zeolite Per Ridurre L'irritazione Della Parete Intestinale And To Bind The Toxic Metals And Aluminum E Poi Per Combinare Appunto I Metalli Tossici E L'Alluminio You Would You Would Increase You Would Help Additionally Help The Reduction Of Histamine By Giving Copper And Giving Sami As Adenosine Metinina E Poi Potremmo Ridurre L'impatto L'effetto Dell'histamina Appunto Con Il Rame E Il Sami And In Conjunction With That You Just Give One To One The Suggestions For The Antioxidants That Are Listed Here In The Report E Poi Insieme A Tutto Quello Che Ho Appena Detto Si Possono Suggerire Quali Antiossidanti Cioè La Somministrazione Di Antiossidanti Così Come Sono Qui Elencati Meaning Alpha Lipoic Acid Maybe Even As An Intravenous Infusion Quindi Per E L'acido Alpha Lipoico Anche Sotto Forma Di Infusione Vitamin E And Vitamin C Vitamina E E Vitamina C And Now If We Look At The Main Influences On The General Health Every Factor Here Is Basically Congruent With What We Said Already Ciascuno Ciascuno Dei Fattori Qui Elencati È Congruente Con Il Quadro Che Abbiamo Appena Illustrato If The Energy In The Upper Abdomen Is Reduced Obviously The Liver Function Is Impaired So The Hormonal System Is Disbalanced Is Obviously There Is An Elevated Level Of Stress So That Is A Typical Co Factor C'è Un Elevato Stress E Questo È Un Co Fattore Caratteristico And My Presumption Of A Need For Detoxification Actually Is Shown Here As The Third Indicator E Il Presupposto Che Ho Citato Prima Del Bisogno Di Disintossificazione È Qui Confermato Nell'elenco And Emotions Show E Anche Qui Nel Riepilogo Viene Sottolineato L'aspetto Emotivo Le Emozioni And There Is Quite A Number Of People Where Emotions Tend To Where The Where The Gut Is Like A Lightning Rod For Emotions E Appunto Per Molte Persone L'intestino È Un Parafulmine Per Il Sistema Emotivo So This Basically Shows An Overall Picture Of Main Influences Quindi Questo È Il Quadro Generale Delle Influenza O Dei Fattori Che Influenzano Primariamente Questa Persona Um If We Look Here There Is One Additional Factor Shown That Will Help The Gut Se Osserviamo Questa Parte Qui C'è Un Ulteriore Fattore Che Può Essere Indicato Per Dare Un Aiuto All' Intestino Which Is Ferro Che È Appunto Il Ferro Now Ferro Is Not Is Also Needed As The Central Ion In The Super Oxidismutase Il Ferro È Un Ione Centrale Nel Super Ossidodismutase To Fight Off Parasites Appunto Per Combattere I Parassiti With The Help By Producing H2O2 Producendo L'H2O2 So Basically This Is This Is The Basic Picture That I Read Here Without Knowing The Case Of The Needs Of That Person Questo È Il Quadro Che Io Leggo Come Fa Bisogni Di Questo Paziente Semplicemente Guardando Il Report Senza Sapere Nessun Altra Informazione So If You Allow Now I Will Unfold The Report That I Was Sent Of What The Person Actually Has Adesso Quindi Se Mi Permettete Andrò A Leggere Quello Che Mi È Stato Inviato Insieme Al Report Che Fino Ad Ora Come Avevo Detto Prima Non Ho Vuto L'Ego Io Would You Like Georgia To Read It Yes While I I'm Reading The Trans I've Just Automatically Translated The Text You Sent Me So Maybe Georgia You Can Read The Picture For Everyone Now In Italian Sì Io L'ho Appena Fatto Tradurre E Quindi Adesso Giorgio Se Lei Vuole Può Leggerlo Per Il Pubblico Per Tutti Allora Invio Problemi 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 Digestione Intestino Irritabile Adolescenza Ideme L'Aggiunta Pillola Anticoncezionali Per PCOS E Mononucleosi A 20 Anni In In Estate Si A 25 anni Inizia Un Percorso Naturopatico E Si Libera Di Tutti I Pharmaci Compresa L'Arappilola Anticoncezionale Spariscono Anche Gli Eritemi Il Ciclo Dall'ora Varia Da 40 A 25 Giorni In Base Alla Stagione Agli Stressor Del Periodo I Report Stress Dravide Danno Punteggi Bassi Nei Pre Covid Dopo Due Malattie Per Covid A Distanza Di Sei Mesi Nel 2021 Lo Stress Legato Alle Scelte Fatte Durante La Pandemia I Report Hanno Preso Dato Conteggi Molto Altri Nel Post Covid Caduta Di Capelli Ora Sistemata Perdita Di Forza E Recupero L'attività Fisica Ora Sistemata Il Sonno È Tornato Ristoratore L'intestino Risente Dell'alimentazione In Particolare Si Accorge Che I Cibi Ad Alto Contenuto Di Nickel Infastidiscono Stomaco Intestino Un'infiammazione Che porta Per estesia Con formicolio E calore Senza Dolore E perdita Di sensibilità Migrante La cervicale A sinistra Si estende Verso il braccio E a volte Anche a fianco Gamba E piede A febbraio Dello scorso anno Il fastidio Era molto forte Ora va A giornate E fa giorni Senza presentarsi Sembra Che peggiori Con l'inattività I pensieri Ricorrenti E post-ovulazione Quando lavora Tu è a contatto Con le persone Il fastidio Non c'è Valentina Yes Please Marcus Yes Ok Well Thank you Now Basically We have found Quite a number Of factors That I've already Mentioned Abbiamo riscontrato In questa Lettera In questa Descrizione Vari Fattori Che avevo Già citato C'è chiaramente Un accesso Ed è confermato A livello Intestino Obviously Also Being Used to be Being an athlete There is A strong urge For performance In the body Chiaramente Il sistema Immunitario Affinché Possa Affrontare Le sfide Please 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 remember My sentence That For me The basic status Of the immune system Is The condition Of the Wall Of the small Intestine Ricordate E l'agglomerato più potente che ci sia di cellule immunitarie nell'organismo. Quindi, nel momento in cui c'è uno squilibrio a livello immunitario, le reazioni diventano iperboliche. E quando c'è in atto un sindrome da intestino gocciolante, l'impatto negativo sul fegato è molto forte? Sia da un punto di vista immunologico. I macrofagi appunto basati nel fegato. Quelli che Von Kufka descriveva come le cellule stella. Assumono un ruolo molto importante nel catturare quei sintomi. E chiaramente avviene un processo di steatosi del fegato nel momento in cui vengono attivate quelle cellule. Sia dal punto di vista dell'infiammazione che dal punto di vista delle altre reazioni che avvengono. Diminuisce l'energia funzionale del fegato allo stesso tempo. Hormones, both stress or sexual hormones or any other hormones. E gli ormoni, sia sessuali che di stress e qualunque altro tipo di ormone. Si scompongono al livello del fegato. E appunto con una disfunzione epatica gli ormoni non sono più in un equilibrio di attività. E questi sono i fattori generici che conducono a questo generale squilibrio. E quindi anche piccoli fattori che influenzano, come per esempio il nickel, come è illustrato in questo caso. Then are just additional factors which trigger the system, but they're not root causes. They're just contributing factors for more disbalance. Diventano fattori che contribuiscono. Non sono i fattori alla radice del fenomeno o del malessero. Cioè questi sono fattori che alimentano un processo già in atto. Un fattore che viene citato come un sintomo ricorrente è il prurito e la parestesia che si manifesta ad ondate. E questo è un sintomo appunto come conseguenza degli elevati livelli di istamina. Quindi è fondamentale a questo punto fare una terapia per l'intestino gocciolante e per tutti gli altri fattori che abbiamo elencato. One thing that's a general helper and it seems to be trivial but it's not is that she actually drinks water, quality water, as much as possible. Un qualcosa che può dare un grande aiuto, anche se può sembrare banale, è quello che questa persona dovrebbe bere acqua, acqua buona, acqua pura in quantità. Just to generally help to basically dissolve the metabolic pathways. Proprio per dissolvere letteralmente le vie metaboliche, i percorsi metabolici. E una cosa che si è vista nel report è uno squilibrio dell'adrenalina. È stato citato ma l'abbiamo anche visto nel report. Quindi sarebbe un'ottima idea fare una terapia ad entrambi gli aspetti dell'asse dello stress. The one thing is the corpus pineale. Uno è il corpo pineale. And the suprarenal glands on the lower side. E poi le ghiandole surrenali. Where are they, the suprarenal glands? Suprarenal glands, next to the kidney. Next to the kidney. Quindi le ghiandole surrenali a fianco al rene. Suprarenal. Suprarenal. Le ghiandole suprarenal. Now, the thing is, with the corpus pineale, that it also produces the melanin. Il corpus pineale produce anche la melanina. And, or it has an influence on the production of the melanin. Ha un'influenza sulla produzione della melanina. I said that wrong. And now, the thing is, she also noticed that when having a sunburn, that it didn't really work out. So that's exactly, that's exactly a proof of that. E la dimostrazione di questo è quel riferimento all'estate quando arriva all'eritema solare. One factor that blocks the corpus pineale is fluoride. Fluoride? Fluoride, yes. Uno dei fattori che blocca appunto il corpus pineale è il fluoro. From toothpaste, for example. Il fluoro che c'è anche nei dentifrici. E sarebbe opportuno fare una pulizia di quell'aspetto lì con altri due fattori. Which is tyrosine. La tyrosina. And a vitamin B5, that's pantotenic acid. E l'acido pantotenico, vitamina B5. So, these are all factors to change the performance of the system. E questi sono tutti i fattori che possono modificare il sistema. Now, following the S-Drive report suggestions and some of the additional factors I mentioned now, I'm convinced that the situation will change over the course of months. Io sono convinto che nell'ambito di qualche mese la situazione potrebbe cambiare se si seguono i fattori e suggerimenti che abbiamo appena elencato e anche se si seguono i fattori rilevati nel report dell'S-Drive. And of course, I'm also available for specific suggestions for that therapy to help in changing all of this in the course of maybe six to eight months. E sono e mi rendo a disposizione per eventuali suggerimenti o interventi relativi alla terapia per portare appunto alla risoluzione di questo caso nell'arco dei prossimi sei otto mesi. Ok. Thank you. Wow. Thank you very much, Marcus. I think we... Penso che abbiamo fatto qualcosa di straordinario anche questa sera. E in tutti questi anni insieme stiamo crescendo sempre di più, sempre più consapevolezza, sempre più conoscenza, sempre più esperienza. E penso che questa grande opportunità che abbiamo con la tecnologia S-Drive e anche l'intelligenza artificiale stiamo contribuendo a rendere questo strumento sempre più preciso, sempre più specifico. Yes, to the point, because the S-Drive report helps to guide the suggestions and the decisions in that process, yes. Esatto, anche perché il report dell'S-Drive rappresenta una guida, cioè ci dà le linee guida per seguire quel percorso. Traduzco quello che diceva Giorgio prima. Thank you very much, Marcus, and over these years we've come together and we've developed awareness, knowledge and experience, right? With the use of the S-Drive, and thanks to the S-Drive and AI, right, this system that we are examining has become increasingly precise. Okay, yes, and Giorgio, if it's okay with you, because you said the time has progressed, if you want to, we have the next course next Tuesday. So maybe we do the third report, the original, the second report, maybe next Tuesday, and then you maybe say more, and then we will continue, because the first case today was on so many levels that it was just important to dive very deep into that. Giorgio, se mi permette, appunto, poiché ci incontreremo ancora martedì prossimo, e adesso diceva che appunto, insomma, abbiamo un po' esaurito quasi il tempo, a questo punto io propongo di fare l'altro report che c'era in lista la prossima settimana, anche perché questa sera il primo caso che abbiamo esaminato veramente ci ha portato molto molto in profondità. Grazie